Oggi è il 7 ottobre 2013 e sono le 7.20, il sole sta per sorgere, purtroppo c'è una piccola nube davanti che lo ancora non nasconde, ma ormai dovrebbe essere pronto a conferire l'orizzonte della mattinetta sembra buona, sono un po' di sciviri in alto, molto luminosi, il colore prevalente è il rosso, il giallo, il bianco ed ecco che sponta il primo raggio di sole da dietro la nube. Qui si combina il movimento della nave, il movimento di rotazione della terra, il movimento del sole, di rivoluzione del sole intorno al centro della glacia, insomma tutta una serie di movimenti. Eccolo qua, mi compare, splendido, splendente in tutta la sua magnificenza. Fra un po' la nave che naviga qui davanti a noi incrocerà il sole. Eccolo, ci siamo, è su un raggio verde, il sole è meglio non guardarlo direttamente per non bruciarsi la retina, per non vedere strane cose. Ora si può dire, la nave è passata e il sole è sorto. Buona giornata a tutti.